Ieri abbiamo presentato un personaggio ormai mitico E a dir poco mitico, leggendario, sto parlando di Ginko E ogni volta che io dico Ginko, voi dovete urlare Ok, fatemi sentire se ci siete Ginko, più forte, Ginko Urlatelo forte, Ginko Benissimo, perché adesso sale sul palco Ginko E quindi siamo pronti per chiamare il numero 47 Ginko Che interpreta il guardiano Interpretato da Ginko Direttamente da For Honor Vai Ginko Alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Ci fa vedere una bella cosa Facci vedere una bella cosa Cos'è? Fuma E' impietato No invece guarda Fuma Fuma dall'elmo Ginko Pubblico non mi sento Lui è Ginko Grazie Ginko Fatti vedere la giurica Ginko E intanto Si prepari Subito dopo Ginko Che intanto Ginko Scende dal palco Grazie Ginko La numero 48 Subito dopo Ginko E' La chele Che ci porta Dall'attacco Dei giganti Ginko Grazie a tutti